Ciao raga, questo sarà il primo episodio di Survival Ocean e come vedete siamo nel bel mezzo del nulla ma... poco nulla solo è che ci stanno delle isolette lì a vicino e quindi quando ci costruiremo una barca andremo a vedere a scoprire cosa c'è intanto raccogliamo la regna e comunque nella chest come avete visto c'è un biscotto un pesce cotto un osso che ovviamente servirà per far ricrescere gli alberi quindi far diventare bone meal poi la pala, il diamante un seme corticelle, leone da pesca e carbone e niente raccogliamo questa legna comunque dobbiamo essere molto attenti che non cada nessun sapling nessun alberello in mare perché sennò siamo veramente fottute quindi io adesso aspetterò calma vai oddio paura mamma c'è un diamante lo zoomerò per voi oh yeah allora dai eccola vieni qui c'è un diamante ciao varello sì sono contenta ok ragazzi possiamo sopravvivere è arrivato il momento di allora prima di tutto facciamo che è una nostra workbench banco da lavoro poi che ci serve e dunque dobbiamo pescare questo lo lascio qui ehm su questo ah sì no tanto che già sperando che vado qui vado risale subito e un che ci deve aspettate cerco di raccogliere un po' di che è che è cesto yeee ora c'è scontantissima terra oh yeee aspettate prendi tutto il fungo sbrigati ah no ma sono viva c'è cioia meno male allora ragazzi credo che metterò il video in pausa perchè credo che è noioso vedere una persona che espande il proprio terreno territorio e niente metto il video in pausa e metto il video in pausa si sennò poi è pallo ok ok eccoci qui tornati e come avete visto ho largato un po' e ho apprezzato un po' di alberi e sono cresciuti perfetti come vedete sono un po' di solette che vedremo raggiungere nel prossimo episodio perchè sinceramente in questo episodio non ce lo posso fare come vedete ho sistemato un po' le cose la terra e un po' diciamo il diamante ho pescato dei pesci e non ve lo volevo non ve lo volevo far vedere perchè è molto doglioso e quindi niente quindi che faccio incomincio a piantare i semi ok così già ha una risorsa di pane diciamo così poi se devo fare un trucco allora se io faccio eh però perchè perchè non scende perchè mi stai trollando ah adesso lo stai vieni qua se faccio così eh tanto adesso ne devo piantare solo uno quindi facciamo così facciamo così tanto qua non ci arriva l'acqua mi sta trollando non è una cosa molto carina eee come mi ha suggerito Nicolas metto anche le torci qui vicino Nicolas è uno che si appena iscrive cioè si deve iscrivere e spero che mi stai ascoltando così ti iscrivi eee niente eeeh ragazzi non so che fare eeeh allora una volta che raccolgo questa legna e niente questo episodio comunque non sarà molto lungo eeeh boh e niente non sarà molto lungo quindi credo cheeeh che niente che niente che iscrivetevi mi raccomando iscrivervi perchè guarda più vi iscrivete e più faccio il video perchè adesso sono 9 iscritti ragazzi me ne manca uno e faccio il speciale di un'ora di potete decidere voi se fare il speciale di un'ora di survival oceano oppure del survival normale quindi decidete voi io mi lavo le mani decidete voi eeeh niente se che posso fare eh posso far crescere altri aglio questo qua faccio tac ah non ho pensato stupida bene tac oddio però lol tac tac come di qua faccio così guarda a chi non piace la farina dossa è un cretino cioè sei strano ma chi non può piacere la farina dossa chi? alzati perchè qui non potete piacere la farina dossa è una cosa più più bella su Minecraft scad ovviamente dopo il diamante eehh tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tucno dotatemi dei suggerimenti su 喔 gli oboiettivi o scrivetemi cosa, cosa dupare o dove fare gli oboiettivi i circo oboiettivi i più principali vabbè ovviamente è costruire una casa non ce l'ho pare di dubbio ma poi a parte fare La fattoria Trovare Cerro Pescare Sovravvivere Sarebbe figo Se ci fosse un dungeon di sotto di noi Quello sarebbe figo Però E niente Ragazzi è palloso Però è una cosa che si deve Quindi si fa Quindi si fa Comunque Grazie a tutti voi che vi siete iscritti Vi stimo Bella raga vi stimo E niente Mazza quanta legno 47 oh yeah baby Vediamo quanto esce Allora Mi metto da parte Così semmai Allora Questo è quanto scommetto Io scommetto su tre stack di legne Io scommetto su tre stack Vuoi? 10 secondi Fatto? Ok Ho ragione io Yeah Tre stack Vabbè Ragazzi Ragazzi quanto Finisco il video qua Spero che vi piaccia il video Se vi piace Cliccate il mi piace Se vi piace Se vi piace la serie che sto facendo Iscrivetevi Se volete darmi qualche suggerimento Commentate Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti